L'Hub destinato a diventare il centro di sviluppo per imprese innovative che dà il via alla conversione creativa del villaggio artigiano a Modena Ovest, sarà ospitato in un fabbricato a due piani di via Nicolò Biondo 106. Il Comune di Modena lancia un bando per selezionare i soggetti tra imprese, liberi professionisti e associazioni a cui assegnare spazi a prezzo agevolato. La riconversione dà spazi ad attività legate all'economia creativa e all'innovazione che operano in settori quali comunicazione, marketing, informatica, web, editoria, arti visive, produzioni video. L'edificio, selezionato dall'amministrazione, con un avviso pubblico misura circa 1000 metri quadrati di superficie e costa complessivamente 25.000 euro l'anno di affitto. Chiamo Fabio Canobio, ho 30 anni, rappresento Basilico, un'azienda che si occupa di web e innovazione. Faccio parte di un gruppo di imprenditori che vogliono partecipare al bando per l'Hub del villaggio artigiano. Troviamo questo progetto molto interessante perché ci dà la possibilità di unire le forze e cercare di creare uno spazio nel quale condividere idee, partecipare a progetti insieme che riguardano web, innovazione, comunicazione, ma anche cose più legate alla produzione come riuso di materiali, design e cose di questo tipo. Il progetto è molto interessante perché si può creare una comunità di creativi che possono creare nuove imprese, possono collaborare a progetti unendo le forze. Il Comune ha fatto un accordo con la proprietà dell'immobile, negoziando condizioni agevolate per l'affitto richiesto, per le funzioni da inserire e per la tipologia di imprese a cui offrirlo. La selezione delle imprese spetta al Comune, mentre il contratto di affitto è stipulato dalle parti direttamente coinvolte, proprietà dell'immobile e raggruppamento di imprese e l'amministrazione interverrà con un fondo per garantire la sostenibilità economica dell'operazione. Mi chiamo Nicoletta Di Gaetano, ho 34 anni e mi occupo di disegno tecnico tessile e tessitura a mano. Penso che sarebbe veramente fantastico riuscire a collaborare con altre attività perché proprio lo scopo è anche creare dei prototipi, poter studiare e innovare. Sono molto contenta, spero di riuscire a entrare in un gruppo che poi viene selezionato perché sono alla ricerca di uno spazio e questo mi darebbe l'opportunità sia di lavorare con altre persone, quindi di arricchire comunque le mie competenze. Il bando offre spazi di lavoro ad affitto agevolato a imprese, liberi professionisti, creativi e altri soggetti accumunati dal fatto di portare avanti progetti innovativi. L'affitto dell'immobile dovrà partire entro la fine di settembre. La scadenza per la presentazione delle domande è il 3 agosto alle 12.30. Il testo completo del bando e gli allegati si trovano sul sito internet del Comune. Per informazioni occorre rivolgersi all'assessorato allo sviluppo economico, telefono 059 203 25 53 oppure consultare il sito web www.comune.modena.it. www.comune.it. 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 Grazie a tutti